Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con la notizia dell'incidente avvenuto questa mattina a Mestre all'incrocio tra Via Le Garibaldi e Via Toti. A scontrarsi uno scooter e un'automobile. L'uomo in sella allo scooter, un 52enne residente in città, è stato sbalzato a terra ed è rimasto ferito nell'impatto. Dopo essere stato soccorso delle ambulanze giunte sul posto è stato portato all'ospedale. Gli agenti del motorizzato della polizia locale hanno provveduto ad effettuare i rilevi del caso. Alla guida della macchina, una BMW, c'era un 43enne, anche lui mestrino, che si è regolarmente fermato a prestare soccorso. Stando ad una prima ricostruzione, l'automobilista proveniente da Carpanedo, al momento di svoltare a sinistra verso Via Toti, non avrebbe dato la precedenza al motociclo che arrivava dalla direzione opposta. Dopo aver invaso l'altra corsia, la BMW avrebbe dunque colpito lo scooter con la parte anteriore sinistra. E sempre questa mattina, verso le 6.45, è stato necessario reindirizzare il traffico diretto a Venezia sulla A28 a causa di un altro incidente, in questo caso tra due mezzi pesanti. L'urto è avvenuto nel tratto tra il nodo di Porto Gruaro e San Sistino di Livenza dell'autostrada A4. A causa dell'impatto, uno degli autisti è rimasto incastrato nella cabina del mezzo, nello specifico una bisarca. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. I pompieri hanno dovuto usare cesoi e divaricatori per aprire un varco nell'abitacolo e riuscire così ad estrarre il conducente. L'uomo, ferito, è stato poi affidato alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale con l'elicottero. Poco più tardi, attorno alle 7.30, sempre nello stesso tratto, si è verificato un altro incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Decisamente gravi invece le conseguenze per i quattro turisti, due tedeschi e due dalla Repubblica cieca, che ieri hanno pensato bene di allestire una tavola da pranzo, niente meno che sopra una vera da pozzo. Morale, il condimento alla pasta asciutta gli ha costato una multa decisamente salata, ovvero 4.200 euro. Queste coperture, utilizzate per chiudere i 6.000 pozzi presenti a Venezia in passato e di cui oggi restano solo 600 esemplari, sono diventate parte integrante della storia della città lagunare e possiedono pertanto un valore culturale inestimabile. I Fantastici Quattro, che alloggiavano nei pressi di San Zaccaria, avevano addirittura provveduto a recuperare alcune sedie dalla loro pensione, così da sistemarle attorno al pozzo e una volta apparecchiato non hanno esitato a posarci sopra quattro pasta asciutta e fumanti. Sopra la vera da pozzo i turisti avevano sistemato addirittura una bottiglia di vino. Le due coppie, completamente ignare della stranezza del loro comportamento e del fatto che attorno a loro ci fosse moltissima gente allibita, sono stati segnalati dai residenti ai vigili. Passiamo dalle punizioni agli elogi. Questa mattina, infatti, il questore Maurizio Mascio Pinto si è congratulato personalmente con i due agenti che hanno dato il via all'inseguimento avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 giugno, quando un'auto è fuggita all'Alt tra le vie di Marghera. Secondo la ricostruzione fornita dalla questura, tutto era iniziato con una serie di segnalazioni arrivate dai residenti, allarmati dalla velocità con cui una potente BMW sfrecciava per le strade cittadine. A quel punto una volante è intervenuta in zona e ha intercettato la macchina. Le ha intimato l'Alt, ma l'uomo alla guida, anziché fermarsi, ha accelerato tentando di fuggire. Con l'equipaggio della volante ha iniziato un lungo inseguimento ad alta velocità che ha proseguito lungo l'autostrada in direzione Milano. A dare manforte agli inseguitori sono arrivate due pattuglie della polizia stradale. Alla fine, con una manovra congiunta, i fuggitivi sono stati fermati all'altezza di Padova. La questura ha voluto sottolineare il sangue freddo e la professionalità alla guida degli agenti rimasti incollati all'autovettura, che rappresentava un grave rischio per le persone che avrebbero potuto imbattervisi. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi per svelare la protagonista dell'edizione 2022 del lungomare delle stelle di Jesolo. Il Comune ha deciso di dedicare a Cristina D'Avena, intramontabile regina delle sigle e dei cartoni animati, un tratto del suo litorale. La cerimonia evento è già stata programmata per giovedì 7 luglio in Piazza Milano. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione.